Alessandro Bruno, allenatore del Notaresco, probabilmente le occasioni più ghiotte le ha avute forse il Chieti per passare in vantaggio, però certo non siete stati a guardare. Assolutissimamente, è stata una partita importante, abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo sempre cercato di controllare il gioco. Forse all'inizio ho avuto qualche occasione, sia il Chieti, ma su palle lunghe, su delle situazioni dove abbiamo sbagliato noi qualche giocata. Però credo che comunque i ragazzi hanno fatto un'ottima gara, siamo stati sempre in palla, abbiamo sempre cercato di attaccare e comandare il gioco. Alla fine il pareggio credo sia il risultato giusto, però comunque noi dal quanto nostro siamo soddisfatti, in quanto abbiamo fatto un'ottima gara. Ecco siete soddisfatti, però se vogliamo adesso i giochi per i play-off, anche se il vostro obiettivo stagionale non era forse quello di entrare nei play-off, avete archiviato la salvezza in grosso anticipo. Queste ultime tre giornate come le vivrete? Raggiungere la salvezza il più possibile era l'obiettivo della società e credo che comunque l'abbiamo raggiunta ampiamente. Adesso ci mancano tre partite, i giochi per i play-off ancora non sono conclusi, noi dobbiamo fare sempre il massimo. Affrontiamo squadre adesso difficili, però dal canto nostro noi vogliamo onorare e dimostrare di aver fatto un ottimo campionato e quindi giocheremo queste ultime tre partite per cercare di fare sempre il bottino piedo. Tornando alla partita di oggi, subito dopo quell'avvio bruciante da parte del Chieti con due legni colpiti, l'abbiamo vista giustamente sbracciarsi molto in panchina, dare indicazioni. Che cosa stava dicendo ai calciatori? No, perché comunque avevo detto di non fare questi errori banali in uscito, su palle lunghe, perché loro sfruttavano questa fisicità, dovevamo leggere meglio un po' questa situazione, poi dopo credo che comunque abbiamo subito poco, ma dobbiamo dar merito anche al Chieti perché il Chieti è comunque una squadra sorgnona, una squadra difficile da affrontare, che si è comportata bene in queste ultime partite, ha vinto sempre, se non erro, quasi sempre con l'avvento di Luiso, del mister, e quindi era una squadra difficile da affrontare, riorganizzata, ha inorganico giocatori importanti, è una squadra difficile da affrontare, però noi l'abbiamo affrontato con coraggio e umiltà. Con Luiso due vecchi amici, possiamo dire così, con Pasquale. Il mister Luiso è comunque una persona per bene, è un uomo di calcio e quindi è riuscito a toccare le corde giuste a questa squadra e i risultati si vedono.